Una signora in particolare ha detto una cosa? Sì, sì, io mi sono avvicinato a una signora che nella fretta di uscire dal treno aveva perso le scarpe e allora mi sono avvicinato perché mi avevano appunto segnalato quelli della protezione civile che potrebbe avere bisogno di scarpe anche tramite la Caritas, però in realtà non le ha volute, sono arrivate delle ciabatte, e le ho chiesto come stava, questa signora è proprio messa a lacrimare, ha sfogato lo spavento, ma mi ha colpito la persona di fianco perché io a questa persona per dare un po' di conforto ho detto dai signora adesso però è qua, è tranquilla, e questa persona di fianco ha detto una frase di questo tipo, sì però noi abbiamo perso dei compagni di viaggio, stava pensando alle vittime, al momento forse non si sapeva neanche bene il numero esatto, due, tre, ancora giravano notizie varie, però mi ha proprio colpito il fatto che ci fosse, l'ho definita un po' come una solidarietà tra pendolari, alla fine sono tutti in viaggio sullo stesso treno, capita qualche volta che magari ci si conosce solo di vista, perché tanto si prende sempre lo stesso treno, ecco questo pensiero di questa persona mi ha proprio colpito.